E allora, queste sono le firme, vi chiediamo di prenderle e di consegnarle voi e metterle in questa grande busta che sarà consegnata al nostro Presidente. C'è posta per il Presidente della provincia, Francesco Rolleri. Il curioso flash mob andato in scena questo pomeriggio nell'affollatissimo corso Vittorio Emanuele ha scimmiottato il noto programma televisivo C'è posta per te, con tanto di postino arrivato da Piazza Cavalli per chiedere ai cittadini di mettere in una busta gialla tutte le 11.600 firme raccolte lo scorso anno con l'obiettivo di ottenere lo stop al piano di contenimento di oltre 200 volpi. Riaperta sul posto la raccolta firme, in 25 minuti sono state raccolte altre 300 adesioni di cittadini, pronti a dire giù le mani dalle volpi. Il Presidente Rolleri nei giorni scorsi aveva ricevuto il coordinamento delle associazioni animaliste ambientaliste, ma ancora oggi non si è pronunciato sulla richiesta di bloccare gli spari.